Sappiamo quanto è importante uno sbloccare le partite ma credo che però siamo la squadra che le sta sbloccando di più soprattutto all'inizio gara questo è un aspetto molto importante perché è chiaro che soprattutto dal punto di vista tattico dal punto di vista mentale la partita poi può prendere una certa direzione e continuo a pensare che è molto importante continuare a creare tante occasioni da gol poi è chiaro che per la qualità dei miei giocatori qualche gol in bisognerà pur segnarlo. Ogni partita riserva delle difficoltà diverse perché gli avversari cambiano perché cambiano le posizioni degli avversari perché cambiano gli atteggiamenti degli avversari una squadra che è evoluta dal punto di vista calcistico sa riconoscere che spazi ci sono e sa poi da lì ad andare a approfittare di qualche di qualche mancanza di avversario quindi siamo stati molto bravi in quello e dovremmo essere bravi domani a capire se ci saranno le stesse situazioni o se probabilmente saranno altre cose da fare e dovremmo farlo con attenzione con qualità e con intensità una squadra forte ben strutturata completa abbina organizzazione una buona organizzazione di gioco a qualità offensive importanti a fisicità quindi una squadra molto forte una squadra che ha perso solamente i minuti finale con napoli che ha battuto l'inter quindi una squadra da prendere che rispetteremo tanto da prendere in grande considerazione poi dopo oltre modo ci siamo noi e con tutta la nostra volontà la nostra determinazione torniamo a giocare a San Siro dopo quasi 50 giorni grazie anche ai nostri tifosi lo faremo con entusiasmo e lo faremo con energia le prossime otto settimane saranno settimane molto impegnative e che quindi ci sarà bisogno di tanti giocatori ci sarà bisogno di giocatori pronti sto vedendo degli atteggiamenti molto positivi da parte dei miei giocatori e quindi saremo pronti per affrontare per affrontare tutte le prossime tappe che sono tappe importante però sempre pensando che quella più importante quella più difficile quella più quella più vicina e quelle di domani quindi grande concentrazione sulla partita domani e poi faremo le scelte di volta in volta per cercare di avere sempre una squadra chiaramente molto competitiva perché perché vogliamo cercare di essere competitivi in tutte in tutte le competizioni che ci aspetta non siamo lì a guardare o contare i punti che ci di distacco dal Napoli dobbiamo fare la nostra corsa e sappiamo che per essere per provare a rivincere lo scudetto dobbiamo fare tanti punti e vincere tante partite e quindi pensiamo pensiamo a giocare bene pensiamo a farlo nel miglior modo possibile pensiamo ad alzare il nostro livello e chiaramente a provare a vincere anche la partita di domani con Gianluca ha giocato nell'under 21 ci siamo affrontati dall'avversario tantissime volte l'ho marcato l'ho marcato spesso credo che purtroppo il 2023 non sia non sia cominciato bene perché perdiamo un campione campione di sport e penso anche soprattutto un campione della vita per tutti i valori che ha che ha sempre trasmesso di persona generosa corretta coerente tenace e quindi una tristezza veramente forte mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla alla famiglia i suoi cari e luca è stato veramente tanta tanta roba